Ciao bellezze, bentornati sul mio canale Veritas Genesis. Era da un po' che questo video era pronto. Allora, se le Olimpiadi sono iniziate con una buffonata tremenda, carnevalesca, grottesca, chiamatela come volete, anche una presa in giro, un mocking dell'ultima cena, comunque si aveva un certo tono, una certa atmosfera. Nella cerimonia di chiusura le cose sono andate molto diversamente. Perché? Perché è stata una cosa molto davvero oscura. Allora, innanzitutto, cerimonia. Vorrei farvi riflettere su questa parola. Perché questi spettacoli vogliono essere fatti passare per spettacoli? Allora, perché li chiamano cerimonia, cerimonia di apertura, cerimonia di chiusura, cerimonia di questo e quell'altro, ok? Cerimonia, dall'antico, cerimonia o cerimonia, dal latino, cerimonia, cerimonia, venerazione, culto, pratica religiosa, voce di origine sconosciuta, forza etrusca, il significato di complimenti convenevoli viene dallo spagnolo cerimonia, gesto o complesso di gesti rituali che accompagnano il culto religioso o una solennità che ha carattere religioso, ok? È un rito, è qualcosa di sacro, solenne celebrazione pubblica, anche in forma meramente civile, qua dice, di un avvenimento, di una ricorrenza, ok? È il gesto complesso di gesti rituali che accompagnano il culto religioso o una solennità a carattere religioso. Quindi cerimonia uguale cerimoniale, uguale rito, uguale rituale. Quindi la cerimonia dà culto a chi? Questa cerimonia, secondo voi, a chi dà culto? Se non all'anticristo. E questo è, io non voglio fare profezie, ok? Questo video non è su una profezia, ma è un'interpretazione artistica di quello che sembra chiaramente la figura anticristica che arriva sulla Terra. Il riferimento a Revelation 9, quindi Apocalisse 9, è veramente forte, secondo me, perlomeno ho notato e non sono l'unica, perché questo essere, secondo voi, che cos'è? Che cos'è questa figura? Sembra molto una cavalletta, oppure un'ape, una simbologia, l'ape regina. Sono queste le simbologie forti che ho trovato, anche perché era innegabile il riferimento massonico. Attraverso le luci, in questa oscurità cerimoniale con cui inizia questa rappresentazione, c'erano dei simboli massonici facilmente individuabili, come questo, ok? Per cui i riferimenti massonici ci sono anche all'ape. Vedete quest'ape? L'ape regina, con esattezza. Queen Bee, come si fa chiamare? Beyoncé, non a caso. Chi è l'ape regina per i massoni e che cosa sono le api? Quindi, due ipotesi, un'ape o una cavalletta. Prendiamo la prima ipotesi, la cavalletta. Ok, ci siamo, no? Guardate le antenne, il colore. C'è, non si può negare, c'è anche una foto dove le ho messe a confronto. Boh. Comunque, questo essere si presenta così. Quindi, una peregina, una cavalletta, è stato chiamato nel cerimoniale the golden voyager, ok? Il viaggiatore dorato. E scende, eccolo, questo è, credo, uno scatto prima della cerimonia. Ok, della persona in costume. Prima ipotesi. Le cavallette. Ok? Apocalisse 9. Apollyon, the locust king. Apollo e il re locusta. Ok? E il quinto angelo suonò. E io vidi una stella cadere dal cielo sulla terra. E ad egli furono date le chiavi del bottomless pit, quindi dell'abisso. E lui aprì l'abisso. E dall'abisso salì un fumo denso, come il fumo di una grande fornace. E il sole e l'aria furono oscurati a causa del fumo che saliva dall'abisso. Ok? Infatti, la terra, prima dell'arrivo del golden voyager, si presenta così, completamente oscura. Quando lui scende la terra, la terra diventa così, quindi un denso, vastissimo fumo che la ricopre. Andiamo avanti. Quindi a lui furono date le chiavi dell'abisso. Lui scende e si presenta così in questa posizione, nella figura di un cristogramma invertito. Con le gambe forma una X, con il braccio forma la P. E' anche la posizione che ha nei tarocchi la figura dell'appeso. Ok? Quindi anche qui, riferimenti magici o riferimenti a Cristo, ma alla figura anticristica. Ok? Lui scende in questa posizione. Ne converrete con me? Assolutamente non casuale. E' una posizione che ho già visto, perché era la posizione delle tombe templari. Ossia questi guerrieri cristiani che poi sono passati ad i misteri occulti, diventando i rosa croce, eccetera. Ma nelle loro tombe loro assumono questa posizione, la posizione del cristogramma. Che cos'è il cristogramma? Per farvelo capire, il cristogramma viene dal latino monogramma cristi. E' un monogramma o una combinazione di lettere che formano l'abbreviazione del nome Gesù Cristo, tradizionalmente usate come simboli religiosi all'interno della chiesa cattolica. Viene dal chi, ro, dal greco, lettere greche. Chi, la x, ro, la p. Quindi le prime due lettere del greco che formano la parola Cristo. Lui scende con questa posizione su una terra oscurata e da cui fuoriesce questo fumo che oscura tutto. Quindi ancora qui siamo compatibili con la versione di Genesi 9. And they had a king over them. Avevano un re che è l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon, ma in greco ha il nome di Apollyon. E mentre tutto questo cerimoniale avveniva, quindi emergono queste figure che erano in attesa di questo golden voyager, si mettono a danzare, a fare cose con lui, a costruire, mettere insieme questi anelli. Mentre appunto lo stadio ha questa rappresentazione del fuoco. Vedete questa specie di sole, the black sun, il sole oscuro, Apollo. Dovete capire che è questa la divinità a cui loro danno culto. E questa rappresentazione è Apollo, il sole oscuro, l'anticristo, che loro stanno venerando. Tanto è vero che durante la costruzione di questo sole nero, da parte di tutti questi sudditi del golden voyager, si suona, c'è una scena piuttosto strana, inquietante, cioè si suona l'inno ad Apollo, quello originale, quindi l'originale inno ad Apollo che si suonava all'interno dei templi. Quindi una canzone vecchia, migliaia di anni, un inno scritto per celebrare Apollo. E c'è questo pianoforte che esce fuori dal fumo e si allunga per metri, metri e metri con un suonatore. Ecco, questo è il pianista che suona l'inno ad Apollo, praticamente in sospensione o qualcosa del genere. Viene suonato l'inno ad Apollo. Questa è la loro divinità, ok? Dal basso esce questa statua, un richiamo sempre all'antica Grecia, io la interpreterei come la dea della vittoria, comunque un angelo, ok? Un angelo caduto che fuoriesce. A un certo punto compaiono altre due figure, quindi si forma questa triade con la bandiera greca, che è la bandiera appunto, penso, voglia dire da dove nascono le Olimpiadi, ma da dove nasce anche il culto ad Apollo e a tutti i falsi dèi che altro non sono, noi sappiamo che angeli caduti. Quindi, arriva la nuova luce all'interno di questa oscurità, questa figura è l'anticristo, ok? Qua vi faccio vedere altre immagini di questi esseri danzanti che danno culto alla figura del Golden Voyager, che è capace di, diciamo, agire sulla Terra attraverso, qui mostrato attraverso il movimento dell'acqua, l'influenza che lui ha sull'acqua che c'è sopra a quella che simboleggia la Terra, ok? Altre immagini di danza, ok? Questo era lo stadio. Altre cose importanti che voglio farvi vedere, ok? Queste Olimpiadi sono state occulte già di loro, le medaglie rappresentano un esagono, quindi il culto di Saturno, il sole nero di nuovo. Potete andare a vedere il mio video sulla simbologia dell'esagono, quindi del cubo, sul mio canale, ok? Queste erano le medaglie intorno ai raggi come del sole, ok? Questo era lo stage della cerimonia di chiusura delle 33esime Olimpiadi, ok? Non a caso delle Olimpiadi molto massoniche, ma molto massoniche. Infatti, tantissimi atleti alla loro vittoria hanno mostrato, hanno posato con l'occhio coperto, ok? Ma questa è solo una teoria del complotto, giusto? Ok, volevo farvi leggere brevemente Apocalisse 9 Il quinto angelo suonò la tromba e vidri un astro caduto dal cielo sulla terra Egli fu data la chiave del pozzo dell'abisso Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo Come il fumo di una grande fornace che oscurò il sole e l'atmosfera Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero su tutta la terra E fu dato loro un potere pari a quello degli scorpioni della terra E fu detto loro di non danneggiare né erba né arbusti né alberi Ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte Però non fu concesso loro di ucciderli Poi Apocalisse Versetto 11 di Apocalisse 9 Il loro re era l'angelo dell'abisso Che in ebraico si chiama perdizione In greco sterminatore Abaddon e Apollo Ok? Come abbiamo visto Quindi il re Locusta Oppure un'ape La simbologia dell'alveare Delle api Dell'ape regina Di come le api devono preparare tutto Per accogliere questa ape regina L'ape regina è l'anticristo Le api sono i massoni Vediamo La simbologia dell'ape Nella massoneria Ok? Nel mondo del simbolismo massonico I simboli comunicano dei messaggi profondi E degli insegnamenti Tra i molti simboli che hanno significato L'ape è quella più emblematica Intrigante Che cosa simboleggia per cui l'ape nella massoneria? È simbolo di industriosità Di lavoro duro Rappresenta il lavoro diligente Dei membri della società È un simbolo di unità e cooperazione Le api lavorano insieme Per la costruzione dell'alveare E ogni ape ha un ruolo fondamentale Ok? Lavorare insieme Per un obiettivo comune Questo è uno dei concetti chiave Della massoneria Qual è il loro obiettivo? Portare sulla terra Lucifero Ok? La vera conoscenza La luce Un ritorno all'Eden Per loro Ma è ovviamente Un inganno Ok? Appunto è stato simbolo Di industriosità Diligenza Lavoro Duro lavoro Per secoli Ok? L'ape era il simbolo Dei faraoni egiziani Che lo vedevano Come simbolo Di realtà Di realtà Royalty Reale Non la realtà Regalità Scusate Regalità E potere Ok? Presso i greci E i romani Era usata come simbolo Di industriosità E di duro lavoro Ok? Viene usata anche Nel simbolismo Giudaico E cristiano Non lo so Cristiano Non lo so L'ape Ma Non mi risulta Ok? Uno dei simboli Più importanti Rappresenta La dirigenza La cooperazione Ok? Il lavoro Verso Un obiettivo Comune Ok? Nella massoneria L'alveare È spesso usato Come simbolo Di una loggia Massonica Che rappresenta Il lavoro collettivo Dei massoni Per costruire Un mondo Migliore Il mondo Di lucifero Le sette api Sentite qua Sono spesso Usate Per illustrare Le sette arti Libere E scienze Libere Che sono I fondamenti Della conoscenza E della saggezza Massonica Quali sono Queste sette arti E scienze Ok? La grammatica La retorica La logica L'aritmetica La geometria La geometria La musica E l'astronomia E ora Tenete presente Come Vengono attaccate Ognuna di queste Arti E scienze O comunque Possono essere Corrotte O possono avere Un significato Una funzione Occulta Come la musica E l'astronomia Ok? Dice Ognuna di queste Discipline Ha un valore Unico E un'unica E un'importanza Unica Per il totale Complesso Del sistema Di conoscenza Che è fondamentale Alla crescita E allo sviluppo Dell'individuo Ok? La grammatica Lo studio Del linguaggio E delle sue Regole La grammatica Sta cambiando Ok? La ritorica Con la ritorica Signori Ci rimbambiscono Totalmente Ci riempono Il cervello Di Mantra Di Paura Di Idee Che non sono Nostre Ok? L'arte L'arte Della Persuasione Attraverso Il linguaggio Ok? L'arte Della Persuasione Attraverso Il linguaggio Ok? La capacità di comunicare In maniera effettiva Per influenzare Gli altri Ok? La logica Lo studio Del ragionamento E rappresenta E rappresenta L'abilità Le forme Delle posizioni Degli oggetti La capacità Di usare Un oggetto Geometrico Per ragioni Spirituali Ok? Lo studio Delle linee Degli angoli Delle forme Ok? La musica Lo studio Dei suoni E delle sue Proprietà Ok? Comprendere Il potere Emotivo Della Musica L'astronomia Lo studio Degli oggetti Celesti E delle loro Proprietà La capacità Di comprendere L'universo Lo studio Dei pianeti Delle stelle Delle galassie E di altri Corpi Celesti Ok? Ossia Anche l'abilità Di usare Questa Conoscenza Per navigare Ed esplorare Il mondo Astronomia Da astronomia Astro Si trasforma In astrologia Che è proprio Il culto Delle divinità Pagane Dei falsi Dei Degli angeli Caduti Che Questi pianeti Infatti Ne portano Il nome Non a caso Che i pianeti Non sono Quello che Ci viene detto I pianeti Siano I pianeti Sono Delle entità A sé Stanti Ok? Quindi L'ape Questa Ape Regina Potrebbe essere Che i massoni Per cui i massoni Stanno Lavorando Perché Essa Possa Costruire Il suo Regno Mi ricordava Molto Questa Immagine Di Beyoncé Quando si presenta Vestita Da Dea Eccetera Eccetera Perché È poco Poco Megalomane E credo Di avervi Detto Tutto Ok? Avrete Sicuramente Già visto Altri video Ho letto Articoli Questo era Quello Che volevo Farvi Capire Circa La Cerimonia Di Chiusura Questo È quello Che ci hanno Mostrato Tutto È E sempre Sarà In mano A Dio Quindi Non viviamo Nella paura Ma nella fede Grazie per essere stati con me Baci Da Nirvana